Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nell'ala est di Villagiona, di fronte a me i giardini all'italiana situati a nord, tutto il parco caratterizzato appunto da piante secolari verso est e ci troviamo in una zona bellissima perché è una terrazza stupenda di una grandissima ariosità su cui magari in futuro ci inventeremo qualche bella degustazione, qualche bel aperitivo. Siamo oggi in compagnia di un altro nostro vino, il Rubinelli Vaiole 2014 ripasso di cui appunto parlerò oggi, sempre facente parte della selezione della carta dei vini qui di Villagiona e voglio dedicare questo vino a Enrico Lunardi che ha fatto in modo che io venissi a conoscenza di questa etichetta che a dire la verità non conoscevo. Un vino di grandissima espressione, una bella interpretazione. Siamo anche qui nella Valpolicella classica, ci troviamo a San Pietro Incariano con le vigne, il Vaiole, un cru praticamente che si trova nelle vicinanze adiacente alla pieve romanica di San Floriano, da una famiglia che vinifica in maniera tradizionale. Quindi seguendo, lasciando quindi l'espressione al vino alla mano di chi lo fa, ma diciamo che un grandissimo spazio, lo vedremo in degustazione, è lasciato proprio all'espressione della vigna, anche perché è una splendida vigna con una bellissima esposizione, scusate, una conca assolata. E quindi oggi ci assaggiamo il loro ripasso. Ripasso che, quindi fatto con uve, corvina, corvinone, rondinella e molinara e un po' di oseleta, vinificate previo appassimento con una macerazione, quindi una minificazione con macerazione di circa una ventina di giorni, e un ripasso nel mese di febbraio, quindi una ulteriore rifermentazione sulle vinacce dell'amarone nel mese di febbraio, per poi finire in botti grandi per 24 mesi. Quello che stiamo adesso guardando, e mi spiace se non vedete benissimo il colore, perché è uno splendido rubino con riflessi granati, 2014 lo dedico a tutte quelle persone che pensavano, quei grandi sommelier, che dicevano che era una bruttissima annata, dotata di pochissime espressioni caratteriali, devo essere sincero, questo è veramente un vino fatto col cuore, fatto con arte, fatto con maestria, perché è un 2014 di razza, ed è un vino che esprime tutta quella che è la sua forza, perché qui si esprime, si vede proprio questo, cioè la forza, l'astroniale potenza di cosa può essere un ripasso. Quindi naso, naso di frutta, di frutta cotta, frutta croccante, quella cosa per cui, diciamo quella nota che spesso e volentieri ripeto, nel senso tra croccante è un misto tra la freschezza e la voglia, la sensazione umana di addentare una frutta matura, ma questo vuol dire croccante, quindi una bella frutta, una frutta rossa, una prugna, una ciliegia, ma anche una frutta cotta, un naso di pepe bianco, notiamo anche qua il cuoio, però note di chiodi di garofano, leggermente di una cannella, una cannella un po' più, non troppo forte, non troppo espressa, l'eucalipto, erbe aromatiche, quindi la menta, se diciamo eucalipto dobbiamo tornare su un'erba aromatica in questo senso, non tanto rosmarino quanto più la menta. E poi andiamo a berlo. In bocca proprio ci dà la potenza, la freschezza, non soltanto intesa in acidità, ma anche una bella mineralità, il sale, anche qua abbiamo il pepe, ci colpisce il retrogusto di questa arancia amara, che ritorna, bellissimo questo ripasso, veramente curioso, non stiamo parlando ecco di un finto amarone, stiamo parlando di un vino di grande identità, che quindi si associa a tutte quelle che sono le caratteristiche stesse, proprio della vinificazione, passo passo, proprio un vino che parla di territorio, davvero un gran bel bere, grazie Enrico.